Appuntamenti rimandati, ambulanze dirottate, apparecchiature KO. I dati sensibili dei pazienti però sono al sicuro. 16 ospedali nel Regno Unito, compresi importanti poli londinesi, sono stati paralizzati questo venerdì da un attacco hacker, i cui autori sono ancora ignoti. Il Labur ha subito andato all'attacco della maggioranza conservatrice, chiedendo al Governo di riferire sulla sicurezza del sistema sanitario nazionale. Stesso giorno da incubo per una decina di compagnie spagnole, compresi i giganti dell'energia e delle telecomunicazioni come telefonica. Colpite anche iberdrola, elettricità e gas, e gas natural, tutte infettate con lo stesso virus diffuso in Inghilterra. Telefonica, colosso delle telecomunicazioni, ha fatto sapere che l'attacco non ha inficiato i servizi ai clienti, ma solo causato problemi interni sui computer dei dipendenti, idem per le altre imprese. Sui computer è arrivato un ransomware, cioè un virus con un messaggio che chiede soldi all'utente, una specie di riscatto, per accedere al PC. Questo tipo di attacco informatico è molto diffuso e ben conosciuto da anni. Grazie a tutti.